Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre i video seguiamo qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche in micro-telegram per restare sempre ai giornali. Tutti i link come al solito li trovate qui sotto in descrizione, vi ricordo inoltre di attivare la campanina per non perdervi ogni mio video e condividete i video se ne avete voglia che questo mi aiuta davvero molto. Oggi farò le novità del mese di marzo, le novità intendo i nuovi manga usciti, le nuove edizioni che iniziano, le variant, manga che sono finiti, manga che ho droppato o gadget vari. Quindi devi iniziare subito da le novità che sto mese è uscito davvero un sacco di roba ma davvero molta molta roba. Le novità forse quella più attesa con Kaiju numero 8, è uscito in box col numero 2, questo box al cui interno c'erano altri gadget, questa tesserina, un magnete, una spilla e un porta chiavi. Comunque di questo vi ho già fatto il video quindi ti invito ad andare assolutamente a recuperare. Altra novità che mi è piaciuta molto con Oshinoko, edito da Jipo a prezzo 6,50€, in prima tiratura ha questo gadget in omaggio, guardate che bel effetto che fa. Ovviamente di tutti vi ho già fatto un video che andate se volete a recuperare. Poi tutte novità, Shangri-La, Frontier, Planet Manga, prezzo 5,20€, vado veloce perché è davvero uscito un sacco di roba carino, un giocatore che gioca a un videogioco molto particolare, cioè un videogioco quello che va per la maggiora in questo momento, lui che è abituato a fare videogiochi un po' di merda. Praticamente invece questo va a fare giochi a modo suo, livella a modo suo e almeno il primo volume si sprospetta abbastanza interessante. Novità, altra novità del mese, Alice in Bonderland, edito da Jipo, prezzo 12€, davvero un bellissimo manga, un survival game, con pieno di mistero, quasi in un altro mondo, che anche se forse non è così in un altro mondo, si vedrà. Io ho già fatto il video anche di questo, ovviamente. Poi altre novità, Pochi no Kuro, Edgester Comics, prezzo 5,50€, stesso autore di Kaiju numero 8, anche questo avrà la prima tiratura, due cartoline in omaggio, queste due, però non tutti i volumi, solo quelli che hanno il gadget di omaggio, perché c'è anche i volumi senza gadget, il prezzo però è uguale, quindi vi invito a recuperare i volumi con il gadget. Poi altre novità, Fourth Nights of the Apocalypse, edito Star Comics, prezzo 4,50€, il sequel di Seven Deadly Sins. Poi abbiamo Demon Slayer, al cut price di 1€, edito da Planet Manga, è molto ecchi, molto, non dico in Thai, però è molto molto ecchi, molto molto spinto come manga. Se volete sapere qualcosa di più, vi invito a andare a riguardare il video a riguardo. Load After World Domination, edito da J-Po, prezzo 6,50€, questo video vi uscirà più avanti perché non avevo spazio per fare altri video. Però l'ho droppato, ecco, non lo continuo così come Demon Slayer, non lo continuo. Poi abbiamo Alma Box, cofanetto di Planet Manga, prezzo 26€, 4 volumi, carino. Però secondo me si può anche fare tranquillamente a meno di prenderlo. Poi, dalla Ikari, Gekin, il Robot Guerrero, prezzo 12€, è uno di quei manga comunque degli anni 70, tema robottoni. Ero curioso comunque per approcciarmi ancora di più a questo stile, questo iMeka, perché ne ho pochi iMeka in effetti in collezione, quindi sono comunque quei Manga storici degli anni 70 e avrà solo due volumi, quindi l'ho preso. Un nuovo Manga da Bao Publish, volume unico da non aprire mai, prezzo 22€. Un Manga molto molto particolare, anche come Steve Disegno, che ricorda molto i comic americani, perché l'autore è nato a Madrid, quindi è spagnolo, con origini giapponese ovviamente, che è Nimura, però ha lavorato anche in America proprio appunto per i comic americani. E quindi si vede tutto il suo stile da questo, sono tre storie tradizionali giapponesi, quindi tre storie, non c'è niente di nuovo. Anche di questo video vi uscirà più avanti, così uscirà più avanti anche il video di Ishinomori Provito, edito dalla Ikari, prezzo 24€, una serie di raccolte di storie fatte tra gli anni 60 e 70 di Shoto Ishinomori, il maestro di Gonagai, però sono molto molto hot, molto spinte e è adatto solo per un pubblico adulto. Poi novità di J-pop nel suolo e altre storie di giungito, prezzo 16€, in questo è giungito, penso che lo conosciate tutti, racconti horror e una serie di racconti horror, ecco. Poi la novità che mi è piaciuta di più, devo dire, number 5, edito da J-pop, di Taiomazumoto, prezzo totale 36€ di questo cofanetto, volume singolo 18€, primo volume singolarmente uscirà il prossimo mese, il secondo probabilmente il mese dopo, a maggio. Però a me è piaciuto molto, è davvero un capolavoro questo, ieri è uscito il video a riguardo che mi invito ad andare a recuperare assolutamente. Poi direi, prima di passare alle nuove edizioni Gag, alle varie, direi che gli avvisavi che è uscita la nuova edizione CarCaptor Sakura 2, anche questa avrà in omaggio una cartolina, una carta giocabile, che avranno tutti i volumi, ce l'avranno, questo per informazioni, oggi adesso parso con le nuove edizioni, direi della nuova edizione di Sayuki, della Dint 12,90€, questo video uscirà sabato, quindi aspettate il video di sabato, poi altra nuova edizione con A-Shield 21, prezzo 14,90€ della Planet Manga, che all'inizio subito è uscita la cartolina, questa qua, fragile, leggera, torse settimana invece è uscita questo cartoncino più spesso, la stessa cart, cart. È uno spocco, una tema a football americano, carino, e lo continuerò in effetti. La nuova edizione che forse tutti aspettavano, Rorin no Kenshin, Kenshin Samurai Vagabondo, Editor Star Comics, prezzo 9€, la perfetta edizione, Kenshin è un manga da leggere a meno una volta nella vita, questa edizione è fatta molto molto bene, devo dire, se non avete ancora avuto modo di recuperare, o aver letto Kenshin nella sua vecchia edizione, è l'occasione giusta per farlo. Nuova edizione della Osamushi Collection, per il mio Son Goku, di 12 aro DJ Pop, della Osamushi Collection, proprio di Osamu Tezuka, perché la vecchia edizione è della Hazard, mi ricordo, se mi stiamo a ricordare bene, la prima edizione, è proprio la rivisitazione di un viaggio in occidente, rivista con gli occhi del Dio, del manga. Poi ora, tutte le varie uscite, che sono paecchie, Shangri-Lan Frontier, questa è la limited, 9€, e è uscita di Shangri-Lan Frontier anche l'Espansion Pack, che è un'altra variant, all'interno c'è questo libretto col capitolo 0, col volume 0. Non è un manga, perché è la leggere, però appunto, visto che è tratto dalla Light Novel, quindi appunto il capitolo 0 della Light Novel. Anche il volume 2 avrà l'Espansion Pack. Poi le altre variant di Kaizo numero 8, che sono uscite parecchie, Allora, questa è, scusate se non mi ricordo, la variant edition, prezzo 6,90€, al cui interno c'erano 4 cartoline, come potete vedere. Fa molto molto bella anche, la sensazione al tatto è molto molto interessante, devo dire. Poi, vediamo qua se riesco a districarmi tra tutto e ormai, non so più dove metterli. Poi abbiamo, appunto, questa comina limited edition, 7,90€, molto bella. Ce ne sono uscite non solo una, ma altre due. Questa è quella da fumettere, al cominterno ci sono questi segnalibri, questi quadri segnalibri. va a effetto argentato, mentre dal sito i segnalibri necessari argentato sono in PVC trasparente. Quindi, però quello non l'ho preso perché non posso prenderli tutti, sinceramente. E poi, nella Kaizo numero 8, oltre a regular uscita, è uscita anche questo, sempre lo stesso prezzo, sempre 4,90€, però con dei gadget al suo interno, con delle cartoline e il pezzo 1 di 2, il secondo pezzo del puzzle, sarà col volume 2. E quindi, è uscita parecchia, parecchia roba, si è andata a fare la Star Comics, in effetti. Poi direi di passare, di passare a cosa? Ah, altra variant uscita, Bungo Stead Ocks 1, questa Discovery Edition, a 1€, edito da Planet Manga, 1€, per approcciarsi a questo, ma anche ancora, per chi ancora non lo conosce. Invece, i manga conclusi, si è conclusa, Spice and Wolf Double Edition, 12,90€, di Planet Manga, questa nuova edizione, in effetti, da Double Edition, volume 8. Poi, si è concluso, The Wolf Won't Sleep 3, 7,07€, della Planet Manga, un'insta mini serie, 3 volumi, questo, anche il video vi dovrà uscire. Poi è uscito il video, è finito il manga, The Killer Inside, col volume 11, prezzo 7€, questo invece il video, ve l'ho già fatto la recensione, quindi se volete, dateci un occhio, ed è finita, diciamo, la prima parte, di Noim, col volume 6.5, che ne ha legato, c'era il cofanetto, vuoto, per mettere gli altri volumi, però, ha fatto una cavolata, la Gipo, perché non ci sta, il volume 6.5, queste sono tutte le novità, voi, quali avete preso, le avete preso tutte, vi è sfuggito qualcosa, tra l'altro, è uscita la variant, della Steelbox, di Black Butter, sorprendibile, sul sito Panini, a 20€, quella mi deve ancora arrivare, però, è arrivata, cioè, l'ho presa, mi dovrà arrivare. Noi ci vediamo, al prossimo video, ah, vi ricordo, che stasera, più tardi, o meglio dire, uscirà il video, migliori letture dal mese di marzo, quindi, non mancate, attivate la campanellina.